Era molto tempo che non avevamo un'interlocuzione diretta con il sindaco di Benevento Mastella, dal momento in cui ci fu quello screzio che insomma un po' ha turbato anche i rapporti personali con il primo cittadino. Poi c'è stata insomma invece una sorta di schiarita nei rapporti, il sindaco ci ha gentilmente invitato per un'intervista e noi siamo andati, come è giusto che sia e anche come è corretto che sia, insomma perché poi il problema è sempre quello, non si può fare a meno della testimonianza, della parola anche del sindaco di Benevento che oltre a essere il primo cittadino della città è comunque una personalità di grande rilievo nel panorama politico nazionale. Tant'è vero che poi la sua grande attività degli ultimi tempi che coincide con l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica ce lo sta a testimoniare, oltre ovviamente al suo lavoro di costruzione di un nuovo soggetto politico di cui parlò subito dopo le elezioni ultime che ha vinto il 18 di ottobre dicendo appunto sarà un soggetto centrista, noi di centro, lo svelò anche il nome e poi il 4 dicembre dal Brancaccio di Roma ne ha dato ufficialmente il segnale di partenza. Siamo stati a Palazzo Mosti che non abbiamo mai abbandonato peraltro in queste settimane, in questi ultimi tempi. Abbiamo in effetti dialogato col sindaco un po' di tutto quello che c'è sotto il sole, o quasi tutto quello che c'è sotto il sole, vale a dire ovviamente la politica nazionale perché Mastella è molto attivo da questo punto di vista, la provocazione che ha lanciato oggi, cioè quella di proporre addirittura l'elezione di Gianni Letta, un Letta che non sia il segretario del Partito Democratico ha ironizzato. Un'opzione, una butade potrebbe anche essere, ma Mastella molte volte attraverso le butade fa poi penetrare discorsi molto più seri. Insomma visto che non c'è nel centro-sinistra un candidato forte, capace di poter avere i numeri per poter diventare Presidente della Repubblica bisogna a questo punto trovare soluzioni alternative. Anche per quanto riguarda Berlusconi, dice Mastella, bisogna accogliere l'idea che possa essere lui il nuovo capo dello Stato, dice perché non deve proporsi come possibile alternativa, anche se naturalmente non si è mai verificato nella storia repubblicana che un papabile si fosse in qualche modo proposto direttamente all'elettorato. Ma Berlusconi sfugge a ogni regola e ad ogni interpretazione. Ma ci siamo anche soffermati su tematiche più prettamente locali, il caso di via Galanti, la contumelia con Conca, le situazioni ancora incerte legate a via Saragat e anche lato che il 16 marzo dovrà vedere rinnovato il proprio Consiglio di amministrazione, dice Mastella in quel caso bisogna fare presto adottare il piano industriale che è stato tanto atteso, senza aspettare che si arrivi al nuovo Consiglio di amministrazione, anzi bisogna adottarlo con il vecchio Consiglio di amministrazione e quello che poi anche Romito ha detto nelle interviste che ci ha rilasciato, cioè adottare il nuovo piano con il voto di 9 consiglieri su 12. Insomma tutto questo è stato l'incontro che è durato una ventina di minuti con il sindaco di Benevento e che ha un po' rotto il ghiaccio rispetto al blocco delle relazioni che c'era stato in conseguenza di certe affermazioni non proprio carine da parte del sindaco ma che poi potremmo rubricare come qualcosa di ormai chiuso, di ormai archiviato. E allora questa è l'intervista al sindaco di Benevento Mastella e lo speciale che proponiamo questa sera. Mi sembrerà strano che siamo qui seduti io e il sindaco Mastella, non per tornare sui vecchi argomenti ma insomma è strano, ma noi abbiamo un rapporto tra giornalista e sindaco quindi in fin dei conti va bene pure questo. Che cosa vogliamo chiedere al sindaco Mastella? Tante cose vorremmo chiedere, lui non ha il tempo da dedicarcene troppo. Partiamo un po' da questa situazione legata a via Galanti e Conca. C'è stato tutto un ritorno di fiamma di questo contenzioso visto che la Cassazione ha dato ragione alla Conca e torto al comune. Io ho scritto giustamente, sono fatti, si riferiscono a 27 anni fa, stavolta Mastella c'ha zecca, probabilmente poco come il cavolo a merenda. Però va detto un'altra cosa, ci sono i prenotali che dovrebbero essere insomma ristorati per quello che hanno perso. Il sindaco che intende fare per cercare di trovare una soluzione quantomeno che possa salvare un po' la situazione che è complicata di sua. Ma guardi come lei riferisce sono problemi che risalgono a 20 anni fa, la stessa cosa a via Galanti. C'è questioni che peraltro, mentre per quanto riguarda Conca, toccano il comune i rapporti con l'impresa che ingiustamente è stata messa al bando secondo criteri moralistici dell'epoca, ho letto le croniche di allora e l'assessore competente a Rami, in realtà era quello che diceva, trattiamo con Conca che in realtà è disponibile a trovare una soluzione. Non si vuole trovare una soluzione, alla fine Conca è fallita e oggi con tutte le conseguenze. Io ho chiesto all'ufficio legale, però non mi pare che la sentenza della Cassazione e della Corte d'Appello stabilisca che sia il comune a dover dare qualcosa come ristoro alle persone che in quel periodo hanno anche cacciato un po' di soldi. La seconda cosa per via Galanti è una vicenda che riguarda 20 anni fa, peraltro riguarda la vicenda, non il comune, ma riguarda la vicenda dell'acere e allora vecchie case popolari. A Cipicchio considererebbe Azzo, noi ce ne siamo interessanti a tentare di risolvere il problema e ci arriva una scarica addosso a tutti quelli che dovevano occuparsi precedentemente, sindacati, protagonisti che erano responsabili e che se le pigliano con noi. Noi stiamo facendo una cosa molto semplice, avevamo a richiesta loro del comitato di via Galanti, 6-7 mesi prima delle elezioni, ci chiesero di far qualcosa e li ho portati al Presidente dell'Ascer regionale. Dopodiché ci siamo incamminati su quella strada per risolvere un problema, non per aumentare la dose e il caos dei problemi e su questa via stiamo andando avanti. Spero che riusciremo a risolvere questa questione, ma la cosa incredibile che è noto qua è che questa minoranza e questa opposizione che in realtà hanno ancora elaborato il lutto è più contenta se magari Mastella nel tentare di risolvere un problema cade sul campo, che anziché risolvere assieme a noi è un problema. Siccome è una questione che all'attento ci abitano inquilini che hanno votato me, hanno votato loro gli altri, il problema è quello che risolve il problema, non quello di auspicare che non si risolva. Però, voglio dire, tra tante cose un po' banali e incredibili. Via Saragat, Sindaco, è stata fatta anche un po' un'operazione, perché poi è stata fatta in campagna elettorale. No, è venuta prima, guarda. Via Saragat. Via Saragat, noi siamo andati sei mesi prima, sei mesi prima della campagna elettorale, quindi non durante, siamo andati dopo durante, quando ho d'assicurazione da parte dell'Ascer. Delle scadenze che poi non si sono purtroppo rivelate possibili, quella del 30 di settembre, di ottobre, poi del 5 novembre, si è andata avanti insomma un po' anzi. Se tu metti sotto e magari chiami qualcuno che è tuo amico all'interno dell'Ascer, di quelli che sono i, diciamo, un componente del Consiglio di Amministrazione, o magari alcuni revisori ti bloccano tutto, su solicitazione politica che parte di qua, è ovvio che va a scapito degli inquilini che sono là, che sono inquilini poveretti che da 20 anni. Ripeto, un problema che riguarda quelli che hanno queste difficoltà qua. Cioè la cosa singolare è che questi stessi, che risolvono il problema e non hanno risolto 20 anni fa, e questi hanno il diritto alla proprietà, alla casa, oggi invece sono affannati soltanto a dire, ma Stella, noi stiamo tentando, peraltro non è la competenza nostra. Cioè mi occupo di una cosa, non sono competente, tento di dare una mano, l'amministrazione tenta di dare una mano, ma non siamo competenti di noi. E là c'è la, vecchia ACP, quindi non noi. Per cui la storia finisce qua. Allora, abbiamo rotto il ghiaccio, lo sindaco Mastella. Allora, andiamo un po' a parlare di questo nuovo partito che si sta creando. Lei ha fatto in effetti ultimamente molte nomine da parte anche in altre regioni italiane, per cui insomma il partito sta andando avanti. Le chiedo, ma è soltanto per quella questione della Presidenza della Repubblica, di un eventuale suo ricollocamento in certi ambiti che le appartengono di diritto? O lei ha veramente, crede veramente che ci sia bisogno di un partito o di una componente che possa andare a sconsociarsi con altre componenti per rifare veramente un centro in questo Paese che a quanto pare lei ritiene essere indispensabile? Quando ho incontrato Renzi mi ha detto, ma tu vuoi tornare qua? Il deputato di Senato ha detto assolutamente no. Ho scelto di fare il sindaco, resta a fare il sindaco, quindi ho preso impegno alla mia comunità e non faccio nulla. Certo, gli ho detto, se poi immagini che sul piano politico decidi autonomamente senza gli altri, assolutamente no. Anzi ho fatto anche una battuta scherzosa, siccome parlavamo di un intero governo Franceschini o altri, gli ho detto, beh, su questo se vuoi tratto più io che tu, perché tu hai risolto le questioni politiche pur avendo determinato una condizione di uscita dalla crisi o delle varie crisi, alla fine ti ritrovi con il Ministro della Famiglia e nient'altro. Siccome la famiglia già ce l'ho, tu pure ce l'hai, fammi fare a me che forse è un po' meglio anziché chiedere nel nuovo governo un ministero per la famiglia. No, detto questo, la mia idea, l'ho sempre detto, è quella tipo Margherita, la quale io fui tra i fondatori, assieme a Prodi, assieme a Dini, assieme a Franco Marini. La stessa cosa vorrei fare oggi, con Todi già c'è una certa intesa, tant'è vero che il gruppo al Senato si chiama Cambiano, noi di centro, che ci consente anche di superare alcune difficoltà per quanto riguarda le regionali, dove bisogna sempre fare le firme noi, eccetera, quindi passato l'anno scorso, tornando prima alle vacanze, l'agosto per le elezioni del Presidente della Giunta regionale Campana. No, no, l'idea è quella, poi dopodiché spero che sia così, altrimenti va tanto lo stesso. Va abbastanza bene, devo dire, anzi non pensavo, la traiettoria non è soltanto Campana dove va bene, ma anche fuori dalla Campania e dopodiché dove arriviamo mettiamo punto. Peraltro con un dato che riscontra anche quello che pensa la mia amica Ghisleri, che alle prossime elezioni per il sistema elettorale stesso e per il modo con il quale centrodestra e centrosinistra arriveranno al voto, al Senato non c'è maggioranza né dell'ostinamento né dell'alto, un'area di centro, anche se fosse un'area che si presenta da sola, al di là di qualsiasi meccanismo elettorale, sarà determinante e io gioco in quell'essere determinante. Passiamo agli altri, se ci stanno, se no, la mia parte, credo in Campania contiamo qualcosa, altre parti, l'abbiamo anche dimostrato recentemente, Avellino si è vinto grazie al nostro apporto, altrimenti non vinceva il candidato del... e io ho dovuto cambiare assieramento perché ero in botte di buonavità, come ha chiesto alla cortesia, era candidato del centrosinistra. A Casetta abbiamo dato una elezione dove l'area centrale ha vinto con il centrosinistra e con il centrosinistra, come a Benevento. Sindaco, il discorso del Capo dello Stato, io ho sentito poco prima la diretta che ha fatto lei alla SET, lei ha detto insomma la sinistra deve mettersi in testa, o il centrosinistra, che dir si voglia che insomma un candidato della propria area non è possibile, non ci sono le possibilità proprio pratiche per poterlo eleggere. Lei ha detto che Berlusconi poi in effetti si autocandida, gioca le sue carte e tutto il resto. Lei in realtà come la pensa da questo punto di vista? Cioè dovendo dare questi sette, otto, nove parlamentari ad una opzione, non lo saperebbe mai adesso e questo è poco ma sicuro, ma terrebbe conto delle autoproclamazioni o in fondo in fondo lei valuta altre opzioni possibili? Sempre di area centrale. Ma guardi, ma io sono uno che ha studiato l'esistenzialismo, esiste quello positivo e quello negativo. C'era quello cattolico e il sistema positivo che stabiliva che alla biforcazione c'erano sempre due o tre alternative. Quello negativo, tipo Sartre, quello che diceva questo e basta e quindi finiva là. Alla stessa cosa va anche sul piano politico. Qua è se c'è soltanto una ipotesi praticabile e le altre no. Altrimenti è monca la vita politica, la vita anche democratica. No, il mio è molto semplice. Io credo, ecco, da quello che immagino, quello che so, Berlusconi si vuole candidare a tutti i costi. Dopodiché anche gli alleati o tutti i candidati che cosa possono dire? Ti vuoi candidare? Ti diamo una mano tutti, votiamo legalmente per te. Se tu recuperi sei eletto, se non recuperi non sei eletto. Dopodiché alla quinta votazione, questa è la quarta, le tre votazioni prima, due terze, quindi non arriva nessuno. Alla quinta votazione devono decidere a che fare. Ma di certo non c'è un candidato del centro-sinistra come in termini passati, c'è perché la sinistra è minoritaria, non perché lo decida io, non è che io prendo atto, quindi ragiono. Quando la sinistra invoca un candidato che non sia divisivo, ho spiegato che tutti i candidati sono divisivi quando sono eletti, poi diventano pape e quindi come tale sono confortati un po' dal carismo, un po' perché giocano con la storia. Anche il mio amico Mattarella è stato eletto in maniera divisiva, perché fu eletto dal centro-sinistra la maggioranza, Napolitano è eletto la maggioranza, tranne Cossiga, Ciampi e pochi altri, sono stati tutti i candidati in maniera divisiva si direbbe oggi. Perché la sinistra insì su un candidato che non sia divisiva? Perché è minoranza, perché altrimenti avremmo in posto dicendo vogliamo che andavano divisiva, poi imponevano in loro come nel caso di Napolitano e si votava Napolitano, questa è la verità. Oggi non c'è questo, per cui debbano scelta. Ad aver io fatto la prorogazione, visto le parole di Letta di ieri, risolvesse il problema dicendo votiamo Letta perché non è divisiva. Letta zio. Letta zio, perché Letta nipote non credo che Renzi metterebbe mai la firma in qualsiasi momento in cui si parla di Letta nipote. Però è ovvio che deve essere uno che insomma proviene, che lo indica magari una griglia di nomi su cui gli altri possono anche dare il loro apporto, il loro contributo, mi pare abbastanza evidente. Sarà Casellati, sarà Cassini, sarà Amato. Lei in cuor suo caldeggerebbe Cassini però? Ma certo, ci sentiamo spesso, mi pare evidente. Non l'ha mai nominato, questo è già un fatto importante. Non nominare mai qualcuno è sempre bene non bruciarlo. L'ha mai nominato, per questa ragione qua si è andati un po' consultandoci tra di noi e parlandoci quotidianamente, insomma immaginando qualcosa che possa avvenire. Certo, lui è di riserva, lui può scattare come gli ho sempre detto alla quinta votazione eventualmente, non prima. Alla quarta ci provo Berlusconi, su questo mi pare abbastanza evidente. Credo verrà oggi anche della riunione che faranno al vertice della Villa Romanex, Villa Zeffirelli e credo decideranno questo. Lui va, poi ce la fa, ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, pazienza. Sindaco, la liberiamo subito dalla nostra incombenza. Parlando d'altro. I rapporti con De Luca come sono? Ma buoni, cioè io rispetto ad uno che dimostra lealtà, corrispondo con lealtà, se ci fosse una cosa diversa, pigliere atto di questo e quindi smorzerei il rapporto, però con De Luca che sento così, discretamente, con buonavità, come mi sento quotidianamente, insomma i rapporti sono ottimi, quindi non c'è nessun motivo. Poi sa De Luca è più nel mirino del PD di quanto sia magari io, quindi non è che lo amino questi del PD a De Luca, assolutamente no, però sono problemi di loro, ne possono pure fare a meno, questa è la verità. Un'ultima chissima cosa che mi è venuta in mente adesso, finalmente abbiamo il piano industriale del lato, che in effetti dovrebbe entrare, dovrebbe essere adottato, qualcuno sostiene, facciamolo con il vecchio consiglio di amministrazione e perdiamo meno tempo. Lei come la vede questa situazione? Quindi è dell'avviso che si deve adottare subito? Sì, se può fare subito, meglio che si faccia subito, perché insomma abbiamo una serie di indicazioni contrarie, ormai insomma il peso rilevante che paghiamo per i rifiuti è davvero drammatico, cioè ci hanno raddoppiato i costi, sia a Vellino per quanto riguarda l'Aerpini ambiente, sia a Tufino per quanto ci riguarda più direttamente, insomma diventa insopportabile questa cosa qua, quindi bisogna fare ogni sforzo e dimostrare che se classi di gente muoversi abbastanza velocemente, lo dite anche al Presidente che c'è ora e alcuni componenti, se lo fanno subito tanto meglio, tanto meglio, dopodiché sono viceversa la nuova dotazione che rinviate per ragioni legate all'emergenza del Covid a marzo, decideremo secondo questa indicazione, questo sarà, quelli che sono indicati da me come eletti avranno questo tipo di scia sulla quale muoversi e che poi serva l'intero territorio a principio e lento. Prima troviamo, meglio è, altrimenti poi siamo affogati dagli altri, bisogna recuperare Casalduni in un certo modo, ho detto al Sindaco, le spoliassi al fatto che il Sindaco e la sua comunità è pensare al bene più generale, sta guardando quello che è possibile il territorio suo, mi pare abbastanza evidente, però è un interesse che sia generale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.